Musica Vaccini, il presidente Acquarogli annuncia una cabina di regia e l'arrivo delle cure con gli anticorpi monoclonali stop nelle Marche a 40.000 dosi di AstraZeneca I consiglieri regionali del Partito Democratico chiedono un report sulle vaccinazioni dosi a 20.000 non sanitarie lasciate indietro le persone più a rischio come i disabili o affetti da gravi patologie Il mercato che resiste anche il lockdown, viaggio di fano tv tra le bancarelle del San Decenzio al lavoro, i venditori di fiori, prodotti agricoli e genere alimentari Meglio del previsto, la gente viene anche perché se uno ci pensa qui siamo più sicuri che al supermercato quindi secondo me sarebbe giusto far venire anche i miei colleghi Fateci lavorare su appuntamento, l'appello delle estetiste e dei parrucchiere alla regione si favorisce l'abusivismo e sono a rischio decine di posti di lavoro Già aziende seriamente provate probabilmente non riusciranno a riaprire le serrande La pandemia non ferma le celebrazioni pasquali che si svolgeranno in presenza e in tutta sicurezza La diocesi di fano al lavoro per il triduo pasquale, la via concessa e la distribuzione dell'acqua santa Buonasera e benvenute a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Come avete sentito dai titoli, il tema dei vaccini è stato al centro del Consiglio regionale dopo lo stop a livello nazionale delle dosi di AstraZeneca la regione ha iniziato a lavorare su una cabina di regia per monitorare l'andamento della campagna vaccinale e a breve, annunciato a Acquaroli, arriveranno le cure con gli anticorpi monoclonali Sono 40.000 le dosi di AstraZeneca che non potranno essere somministrate al momento a causa del blocco prima di un lotto da parte della regione Marche dopo il decesso di un docente in Piemonte e poi generalizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco in tutto il territorio nazionale Una decisione che è stata adottata in attesa del pronunciamento dell'EMA e che in modo inevitabile sta provocando un rallentamento delle vaccinazioni Per questo la regione ha previsto un nuovo piano che si muoverà su tre direzioni Verranno inviati messaggi per informare i cittadini dello slittamento e della riprogrammazione dell'appuntamento, verrà aumentato di 20 unità il personale addetto al numero verde Covid per dare risposte tempestive ed è previsto un sito web sul quale verrà comunicata la tipologia di vaccini in arrivo ma anche la fase di somministrazione con i numeri e la rendicontazione così che ognuno possa verificare lo stato d'avanzamento della vaccinazione Inoltre al termine del Consiglio regionale che si è tenuto in modalità online il presidente Francesco Acquaroli ha annunciato la costituzione di una cabina di regia per monitorare ogni giorno l'andamento della campagna vaccinale e in caso cercare di correggere il tiro Ad oggi nelle Marche sono state consegnate oltre 214.000 dosi di vaccino e di queste ne sono state somministrate più di 179.000 l'83,6% Infine il governatore ha assicurato che a breve arriveranno anche nella nostra regione le cure con gli anticorpi monoclonali che in base a una richiesta di sperimentazione potranno essere utilizzate anche per i più giovani E rimane alto il numero dei decessi legati al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone tra cui un anziano di 81 anni residente a Colle al Metauro I positivi registrati nell'ultima giornata sono 529 In testa la provincia di Macerata con 154 casi seguita da Ancune e Pesero Urbino In aumento anche ricoveri negli ospedali della regione più 14 rispetto a ieri ma quasi tutti nei reparti non intensivi I pazienti in terapia intensiva salgono a 133 mentre quelli in semi intensiva restano 214 E rimaniamo in tema di vaccini perché secondo i consiglieri regionali del Partito Democratico sono state lasciate indietro alcune categorie più a rischio Il servizio di Angelica Panzieri Giornata intensa nel Consiglio regionale di oggi la consigliera epidemica Ela Vitria ha presentato assieme ai colleghi Andrea Biancani, Anna Casini e Antonio Mastrovincenzo un'interrogazione diretta all'assessore regionale Salta Martini per approfondire la questione relativa alla sospensione dei due lotti di AstraZeneca da parte della regione Marche Chiedo all'assessore regionale alla sanità Salta Martini di riferire esattamente con un report in modo trasparente senza creare allarmismo qual è la situazione perché molte persone che hanno ricevuto la prima dose dei due lotti inizialmente sospesi AstraZeneca sono insegnanti, personale dei tribunali molti appartenenti alle forze dell'ordine, vigili urbani, carabinieri e alcuni di loro probabilmente sono preoccupati per i sintomi manifestati vogliamo un report preciso quindi sulla situazione che c'è al momento nelle Marche sappiamo che da ieri sono sospese tutte le somministrazioni AstraZeneca e questo mi pone di fronte anche ad altre domande viste comunque le eventuali possibilità che ci siano dei rischi legati appunto al rischio trombosi io mi chiedo a questo punto perché non sono stati conservati i vaccini Pfizer per le persone più a rischio come gli ultraottantenni sappiamo che sono state utilizzate 20.000 dosi di Pfizer per personale amministrativo non sanitario quindi persone che lavorano in smart working al computer probabilmente anche giovani che hanno avuto dosi Pfizer e invece l'AstraZeneca è stato tenuto da parte per gli ultraottantenni perché non sono stati fatti questi calcoli poi la richiesta di vaccini urgente anche per altre categorie finora secondo Vitri dimenticate io chiedo che tutto il consiglio regionale e mi auguro all'unanimità davvero abbia la sensibilità giusta per inserire nel piano vaccinale quattro categorie dimenticate che invece hanno bisogno di vaccino in via prioritaria sono i disabili e i loro assistenti la fascia di docenti tra i 65 e i 67 anni di età che non è stata considerata per un vero e proprio errore di calcolo nel piano così come tutti gli operatori scolastici madrelingua, tecnici che ancora non sono stati inseriti nel piano vaccinazione gli studenti di medicina che sono in ospedale a contatto con i malati e invece non possono usufruire della vaccinazione quattro categorie a rischio che devono essere inserite subito nel piano vaccinazione aggiungo solo che per i disabili si è creata anche una situazione di grave disparità perché solo quelli che frequentano i centri diurni di titolarità ASUR hanno avuto la prima dose di vaccinazione tutti quelli dei centri diurni comunali o privati no è assurdo giocare sulla pelle dei disabili e quindi creare questa disparità separare i percorsi di pazienti covid e non covid a partire dagli accertamenti diagnostici in particolare la TAC punto di partenza per la diagnosi e la scelta della terapia è il principale obiettivo di una nuova TAC a 64 strati, tra le poche in Italia posizionata all'interno di una struttura container davanti al pronto soccorso degli ospedali riuniti di Ancona è collegata con l'ospedale al centro del percorso d'ingresso e di uscita delle ambulanze il macchinario è attivo da oggi pomeriggio H24 in campo per garantire 20-30 esami diagnostici ogni giorno per pazienti positivi al virus ci saranno diverse squadre composte da un medico radiologo da un tecnico di radiologia e da un infermiere il costo di locazione del macchinario è di 150.000 euro ed ora la crisi economica con l'entrata delle marche in zona rossa sono vietati anche i mercati settimanali ma alcuni ambulanti possono lavorare come ad esempio quelli che vendono genere alimentari la zona rossa annulla il mercato cittadino ma continua a svolgersi regolarmente quello alimentare siamo andati a sentire il parere degli ambulanti non si lavora più come un tempo ma chi può farlo ringrazia di esserci a Pesaro la zona rossa annulla i mercati settimanali del martedì quelli rionali e quelli previsti la terza domenica del mese fino al prossimo 29 marzo ma nel rispetto delle normative anti-covid possono continuare a svolgere la loro funzione le attività legate alla vendita di generi alimentari prodotti agricoli e florovivaistici storie e volti di chi nonostante tutto non si rassegna cosciente di ricoprire un ruolo fondamentale per la comunità quello di continuare ad offrire un servizio seppur con l'auspicio comune a tutti di poter tornare presto alla vita normale siamo molto contenti che il mercato continuano a farcelo fare pensiamo che all'esterno del mercato probabilmente è più difficile infettarsi del covid rispetto all'interno di un supermercato come sta andando? meglio del previsto la gente viene anche perché se uno ci pensa qui siamo più sicuri che al supermercato quindi secondo me sarebbe giusto far venire anche i miei colleghi per la mia modo di vedere perché se il supermercato è aperto non vende solo l'alimentare vende anche le altre robe allora o stanno chiusi anche loro o riaprono anche i nostri colleghi che mi sembra una cosa giusta grazie a Dio ci fanno fare il mercato e questo siamo contenti siamo fieri di questa cosa perché ci fanno lavorare poi speriamo che vada tutto bene purtroppo ce n'è pochissima di gente rispetto a come lavoriamo noi al mercato si vende poco la gente non circola e così è tutto questo tremmo un po' avanti ancora e vediamo c'è da dire che un po' le amministrazioni hanno fatto il tutto a discapito degli ambulanti perché per dire per assurdo lei vede oggi non ci sono i vestiti però se va al globo è aperto o se va in un qualsiasi negozio dei cinesi sono aperti poi ci si mette anche il fatto che non c'è un'informazione che la gente lo sa che comunque siamo qui e quindi tutto concorre a non aiutare il mercato ecco e tra le categorie che hanno dovuto chiudere i battenti ci sono anche le estetiste e i parrucchieri che lanciano un appello e chiedono di poter lavorare su appuntamento e in sicurezza anche in zona rossa dopo questa ultima stretta già aziende seriamente provate probabilmente non riusciranno a riaprire le serrande gli aiuti non sono stati direi proprio insufficienti se non addirittura inesistenti le scadenze corrono comunque e le imprese non ce la fanno più portoni inchiavati, saracineschi abbassate appuntamenti rimandati ancora una volta dal mese di maggio del 2020 i parrucchieri e i centri estetici non avevano più chiuso se non nel fine settimana all'interno dei centri commerciali ora nonostante il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza con le marche in zona rossa anche per loro è tornata la stretta beh l'umore della categoria veramente si sta tirando la corda un po' in maniera esagerata questa restrizione chiudendo le nostre imprese francamente le aziende di settore non se l'aspettavano sono molto arrabbiate e nelle marche in totale sono 1319 le imprese di estetica e 2943 quelle di acconciatori e barbieri imprenditori che hanno investito risorse ingenti per garantire la sicurezza dei clienti e che oggi si ritrovano nella stessa situazione di un anno fa i protocolli di lavoro in sicurezza inseriti a seguito del lockdown sono equiparabili agli studi odontoiatrici pertanto lavorando su appuntamento su una persona alla volta si lavora in totale sicurezza e avete avuto modo di parlare anche con la regione per lanciare questo appello? abbiamo lanciato appelli sono mesi che lanciamo appelli ma nessuna risposta dalla regione è inammissibile è inammissibile anche perché in questa modalità chiudiamo le imprese regolari lasciando spazio all'irregolarità e all'improvvisazione che dilaga e certamente non tutela la salute pubblica non riduce la possibilità aumenterebbe dunque anche la concorrenza sleale cioè i servizi a domicilio che secondo la Presidente potrebbero sottrarre la clientela chi invece lavora onestamente e paga le tasse nonostante le difficoltà così facendo la si sta purtroppo ahimè e lo dico a gran voce solo agevolando io mi auguro che ci sia un po' più di collaborazione anche con le associazioni di categoria perché noi abbiamo offerto a forza la nostra volontà di collaborare io ultimamente sto cercando di rivolgermi anche ai sindaci della nostra regione perché sono loro che conoscono bene le realtà territoriali sono loro che hanno un monitoraggio più esatto e più preciso e dico collaboriamo facciamo forza per portare attenzione alla politica centrale che forse certe decisioni non sono quelle più logiche ai fini di contenimento della pandemia ed è stato pubblicato sul sito del ministero dell'istruzione il decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori la provincia di Pesaro Urbino ha visto accolti tutti gli interventi candidati a finanziamento per un totale di oltre 5 milioni 300 mila euro i progetti riguardano Afano l'istituto Olivetti il liceo scientifico e l'istituto Battisti a Urbino liceo artistico scuola del libro e poi il campus di Pesaro per l'adeguamento delle norme di sicurezza e antincendio degli edifici e si rafforza il legame tra il comune di Pesaro università e territorio questa mattina durante una conferenza stampa è stato illustrato il potenziamento del corso di infermieristica inoltre è stato presentato sia un nuovo corso socio-sanitario che avrà proprio la sede a Pesaro sia l'ampliamento con l'indirizzo nautico del corso di sistemi industriali dell'informazione che vedrà la collaborazione della provincia e cantieri rossini infine è stato rinnovato l'accordo quadro tra il comune e l'università politecnica delle marche tutti i dettagli li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it cambiamo argomento triduo pasquale via crucis e distribuzione dell'acqua santa la diocesi di Fano si sta preparando alle cerimonie pasquali in presenza nelle varie parrocchie del territorio intanto il 4 aprile Fano TV trasmetterà la santa messa di Pasqua in diretta dal Duomo di Fano ma sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio che è stato curato da Filippo Pucci Sarà una Pasqua diversa da quella che abbiamo vissuto lo scorso anno la diocesi di Fano Fossombrone Cagli e Pergola si sta organizzando per vivere in modo diverso ma comunque partecipato le prossime celebrazioni pasquali visto che la situazione coronavirus non accenna a diminuire i vescovi si legge in una nota della CEI nel rispetto dei protocolli firmati con il ministero e confermati dai comitati invitano ed esortano i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche nel rispetto però dei decreti governativi distanziamento igienizzazione delle mani e limite massimo i riti della settimana santa in particolare il triduo pasquale dovremo vivere in presenza e questo significherà che ogni parrocchia si sta organizzando per poterlo fare nel rispetto delle norme di sicurezza che questa emergenza covid ci chiede quindi partecipazione in presenza anche la via crucis cittadina per questo 2021 sarà rivista non in versione digitale come lo scorso anno ma organizzata sempre dai giovani e in presenza non sarà certamente possibile farla per le vie cittadine ma la pastorale giovanile si sta organizzando perché ogni parrocchia possa viverla all'interno della propria chiesa sarà una forma unitaria perché saranno i giovani a presentarci le stazioni della via crucis e i commenti e sarà il vescovo che diffonderà per tutte le parrocchie un suo messaggio per i giovani quindi la via crucis quest'anno avrà questa caratteristica uno dei gesti più tradizionali di questo periodo è quella della visita dei parroci alle famiglie con la benedizione della casa che per ovvi motivi non si svolgerà nelle parrocchie ci si sta organizzando in questo modo ci sono delle celebrazioni in cui si ricorderà l'importanza del battesimo e la centralità del battesimo perché il battesimo è la nostra Pasqua la nostra prima Pasqua e in ogni chiesa si benedice l'acqua che poi ogni fedele porterà a casa e secondo un rito che il vescovo stesso sta diffondendo insieme alle sue meditazioni potrà benedire la sua famiglia per tutti gli appuntamenti legati al momento quest'anno l'emittente televisiva Fano TV trasmetterà in diretta alcune delle celebrazioni organizzate dalla diocesi in programma fino a Pasqua chiediamo anche che coloro che vivono una situazione di malattia o di disagio si colleghino con le celebrazioni del vescovo e qui sarà Fano TV e l'ufficio comunicazione della nostra diocesi che si stanno organizzando per riprendere per far partecipare tutti attraverso questi mezzi alle celebrazioni del giovedì santo alle 6 del venerdì santo alle 6 della veglia pasquale alle 6 e della domenica di Pasqua mattina alle 11 sopra un luogo congiunto a San Pietro in valle del sindaco di Fano Massimo Serie ed i responsabili del servizio di lavori pubblici servizio cultura e dei funzionari della soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle marche un primo passo per la realizzazione di un progetto comune che partirà per un intervento di sistemazione messa in sicurezza per la riapertura della struttura e con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale alle ore 21 e 30 trasmetteremo una nuova puntata di Guarda chi c'è protagonista l'imprenditore Diego Mingarelli intervistato da Paolo Notari grazie e buona serata a tutti voi